c'è uno lo tiene e uno non zacca di solito così fa quindi visto che è stato il contrario lei in zacca io lo tengo scusa va bene va bene siamo siete pronti siamo tutti collegati siete tutti quanti attenti attesa mi sono messo a sedere e mi ha detto sei agitato perché mi veniva vomita no ho mangiato troppo e te secondi dopo lei che dà il notaio di consegnarmi la faccia di santi che cos'è abbiamo più la buccia mi fa paura la possiamo togliere santi ti ricordo che questo video online poi la faccia di santi e concentrati vado ad aprire ma così funziona ma è già visto qualcosa non mi torna più da gioco a premi o più da c'è posta per te c'è posta per te vado a leggere vado a facci lorenza gatti le quattro opzioni la buccia vuole a me mi sembrava trovare già l'ho visto attenzione notario è rubato qualcosa allora provo con il frutto di magia ora la concentrazione chiedo ad un abitante della casa di sauro parisi di alzarsi e aprire la porta di casa devo farlo anche io aspetta aspetta che alzo gianluca che lo sento basso sento bassissimo no è la busta del troppo alta la musica ok vado aprire la porta di casa e guardati intorno mi raccomando ora ci va leonora io non ritrovo manco i calzini a casa mia mi fece creare un po' di casa porto la torcia almeno e leonora sta venendo controllate leonora guarda che non ce la fa più ma ora devi rimettere la musica è finita no è scommessa è finita la musica cazzo riapri ho trovato questo fuori fuori dal cangello esci dalla porta e vai verso le scale io sto scalzo eh ma non servono le pianelle giallo che ha sbagliato casa porca puttana eppure il cangello me lo ricordavo non era quello bianco il cangello non era quello nero accidenti o un buffo mo tipo non ci sta niente però il colore rosso ehle cosa dice quel colore rosso esatto cosa ti porta a pensare non lo porta la cicogna lo porta a babbo natale esatto comunque la musica la musica è molto ambientale sante sta correndo da qualche parte la musica agitata tipo scappalò un serial killer lo stavano si è perso 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 lo stavano lo stavano lo stavano lo stavano lo stavano stecchino che a terra avevo il coltello data da macellare c'è il piocchetto quella si raccomandata che stai riprendendo tutto mi fa un video ma lo sante sì ma certo ma la musica allora ora concentratevi perché il compito non è semplice la signorina un signore o quello che era mi ha detto di prestare attenzione a dove pungete perché un palloncino molto resistente mi ha detto di pungere non troppo sopra ma forse meglio sotto quindi ve lo dico quando siete pronti per me sarebbe il massimo che lo fungete contemporaneamente insieme con lo stecco lo prendete insieme lo fungete come ogni cosa non mi fate dei dettagli perché poi andiamo online c'è uno lo tiene e uno lo zacca di solito è stato il contrario lei in zacca io lo tengo scusa ma va bene va bene va bene va bene vabbè fai le regole come ti fai no noi non abbiamo capito andate fuori un palloncino non hanno visto tutti come quel palloncino aspetta che è tagliato uno comunque mica si è visto io l'ho visto sei visto a casa mia aspetta perché per la prova la prova del notaio ho qui il foglio dove ci hanno scritto ecco qui è ufficiale c'è anche una foto del ragazzo credo che questo sia un carnese fantastico tutto il padre e vai e vai due maschio abbiamo dobbiamo fare un altro tema ragazzi massimo roberto dai mo ciao ciao ciao